buonasera a tutti già qui è sera questa sera si parla di triodi ma non robina di questo genere parliamo dei triodi mostro di dimensioni e potenze abnormi che stimolano tanto le fantasie bagnate degli audiofili perché ma perché ci si possono fare amplificatori da mille mille watt in single ended senza controreazione davvero e quasi diciamo che teoricamente si possono fare ma in pratica perché abbiamo già visto con triodi ben più economici e più semplici da usare che spesso i costi di realizzazione inficiano pesantemente i risultati finali per la serie volete spendere 3000 euro per farvi un 845 ma anche 5000 il risultato avrete un amplificatore con 845 che suona male peggio di uno con le l34 che magari costa effettivamente 2500 euro portando il ragionamento alle estreme conseguenze con triodoni grossi così larghi così eccetera eccetera che cosa mai può andare storto a questo proposito o quasi a questo proposito ho ricevuto qualche messaggio qualche commento ai video precedenti commenti all'apparenza differenti ma in realtà riguardanti la stessa questione c'è da una parte mi si chiedeva ma sì d'accordo triodi in single end da bassa potenza va bene suonano bene siamo d'accordo però per farli suonare ho bisogno di casse enormi per avere efficienza altissime e non è che tutti in casa si possono mettere dei frigoriferi alti due metri ci sono dei limiti al vivere civile che impediscono certe follie e quindi perché non posso godermi la linearità e il bel suono dei triodi con casse a bassa efficienza allora cominciando da questo commento le risposte sono due primo non è necessario avere casse enormi mi permetto di autocitarmi le cx8 monitor sono casse che ti permettono di ascoltare con una 300b per qualcuno basta anche una 2 a 3 e sono grosse così le metti su un piedistallo su una scrivania su una libreria e risolvi il problema quindi questo problema delle casse enormi è già un problema relativo in secondo luogo se vuoi proprio usare delle casse grosse così a bassa efficienza con un triodo single end ed è magari anche un bel triodo beh sono fatti tuoi nel senso che il bel suono da questo sistema non uscirà mai ma perché il limite sono i diffusori a bassa efficienza che ti ammazzano qualunque cosa e ti fanno suonare un po' tutto uguale poverino e limitato quindi questo c'era però c'era il dubbio come faccio ad avere quel suono con un diffusore a bassa efficienza la risposta potrebbe essere beh basta fare un single end ed in classe in classe a per forza un single end ed con un trio dazzo da 100 watt di potenza d'uscita e abbiamo risolto il problema ok vediamo e poi c'erano altri commenti invece più diretti che mi dicevano senti ma dimmi un po' qualcosa cosa ne pensi di quei valvoloni di quei trio di mostro grossi così che promettono decine e decine di watt in uscita mi faceva un paio di esempi questa persona e mi citava triodone della kr il t1610 un po' a sproposito per la verità la gu81 russa che non è un triodo è un pentodo ma è comunque un valvolone una valvolazza eccola qui la vedete è questa roba qua una valvolazza che anche qui promette potenze strepitose e poi ci sono tutta un'altra serie di cose simili che vengono utilizzate qua e là nei diversi amplificatori sempre qui alle mie spalle ci sono eccole qua scusate le mie spalle quasi queste qui sono delle 833 ad esempio che vengono usate qua e là in alcuni amplificatori dalle potenze stratosferiche si assomigliano abbastanza è la gu81 alle 833 però 833 è proprio un triodo sono tutte valvole queste sono tutte valvole di potenza per radiotrasmettitori anche se la 833 poteva essere usata in audio frequenza come come modulatore dall'altra parte sull'altro schermo invece vedete ecco qua le t1610 di kr confrontate con una gm 70 che è già una bella bestia di dimensioni confrontabili con un 845 ma la 1610 è grossa al doppio ecco è una bottigliona alta così larga così ora veniamo a noi per fare il discorso semplice mi sono stampicchiato un po di cose i datasheet di alcune di queste valvole perché per capire un pochino cosa effettivamente si possa fare quantomeno per fare un tentativo e vedere se si può almeno in teoria far suonare bene questi bottiglioni perché abbiamo già visto in puntate precedenti che è già una 300b va trattata con i guanti 1845 vuole ancora più guanti per funzionare bene altrimenti viene fuori un 14 amplificatore bestie di quel tipo come le dobbiamo trattare vediamo un po allora la prima che mi viene in mano è la gu81 con un bel datasheet in cirillico fortunatamente con testa inglese a fronte allora vediamo un pochino limitiamoci ai dati elettrici vediamo cosa serve per far funzionare questo oggettino di queste dimensioni filamento cioè solo per accendere la valvola a moda di lampadina e usarla come abajur come questa che c'è qua dietro usa qua dietro ecco usata proprio come abajur perché è scollegata solo il filamento però il filamento di quell'oggetto funziona a 12,6 volt e 11 ampere 12 per 11 quanto fa circa 130 130 e qualcosa watt di dissipazione di assorbimento come volete solo per far accendere il filamento con un dettaglio il dettaglio è che come al solito questo tipo di valvole con filamenti in tungsten toriato le riconoscete dalla luminescenza gialla chiara e vogliono una tensione di filamento molto stabile molto precisa quindi mettiamo in conto che per solo per far accendere il filamento e non stiamo ancora facendo nulla con la valvola solo per il filamento dovremmo fare un alimentatorazzo capace di gestire 130 erotti watt di potenza continui a 12,6 volt 11 ampere stabilizzati e possibilmente con una partenza dolce per evitare di fracassare il filamento dopo sei accensioni no ma è dopo qualche accensione un alimentatore del genere che chiaramente si può mettere perché ho visto delle nefandezze di ogni tipo possiamo anche accendere in alternata poi mettiamo il potenzione per ronzio ci vorrà un reostato grosso così ma tanto ho visto schifezza anche lì possiamo non metterlo oppure mettere un reostatino che si scalda e si brucia ma va bene per farla funzionare comunque volente o nolente abbiamo bisogno di un alimentatore come si deve alimentatore che avrà bisogno di beh dunque 135 watt continui gli vogliamo mettere un 300 volt ampere di trasformatore giusto perché non funzioni a 80 gradi secchi quindi un toroidale più o meno di queste dimensioni solo per accendere un filamento attenzione vogliamo andare in stereo andiamo avanti e vediamo così è pur parler la tensione anodica viaggia dai 2 ai 3 kilowatt il problema è che su quell'anodo si arrivano a dissipare 450 watt non esattamente delle bazzecole sull'anodo di un tubo naturalmente è consigliato stare sotto questi valori anche se di picco questa valvola sopporta 600 600 watt di dissipazione sono valvole non che non sono state progettate per funzionare in classe a quindi ad alta corrente sempre conviene tenersi un po sotto stiamo comunque parlando che so io di diciamo un 300 watt di dissipazione 300 watt di dissipazione a 2 kilowatt quindi secondo voi che razza di alimentatore bisogna fargli a questo signore per farlo andare potete anche fare un bel alimentatore da 2 kilowatt mettendo a letteralmente a festone un po di condensatori in serie però avrà delle caratteristiche bene che vada disastrose e quindi anche qui un bel problema comunque dovremo lavorare con tutta componentistica ad alta tensione raddrizzatrici o dio di rettificatori ad alta tensione ad alta corrente tutte cose tutt'altro che economiche e semplici da maneggiare questo coso poi è un pentodo ricordiamo sulle griglie arriva a dissipare 120 e 10 watt così è giusto per dire e ha un guadagno in tensione di vediamo un po dichiarato dichiarato da 2.5 a 4 quindi questa valvola in tensione guadagna veramente pochino per avere uno swing di tensione sufficientemente alto per effettivamente esprimere tutti questi watt di potenziale potenza abbiamo bisogno di pilotarla con un amplificatore da 50 va così mal contati e sto andando molto molto a spanne fate conto che per pilotare un tubo magari anche due tubi se ce la giochiamo bene e se i due tubi sono in push pull e se sono a bassa polarizzazione quindi una classe b una classe ab a bassa polarizzazione come questa valvola vuole per non morire prematuramente ci serve un titania per farle muovere ma dopo aver fatto tutto questo ambaradan con un alimentatore che probabilmente è una patella di queste dimensioni un alimentatore dei filamenti che di nuovo un altro rack da 19 pollici da tre unità poi lo pilotiamo con un titania no dovremmo mettergli davanti qualcosa di adeguato quindi sempre facendo i conti a spanne un push pull di 845 come driver avete già capito che fare un amplificatore non dico come si deve ma comunque fatto con un po di buonsenso utilizzando questi pentodi eventualmente collegati a triodo è un casino un casino in termini di costi dimensioni pesi ingombri qualunque cosa vogliate è comunque un casino guardando in giro ho visto che esistono degli accrocchi cinesi con la gu 81 che buttano fuori potenze inusitate credo 150 250 watt qualcosa del genere e sono tutto sommato di dimensioni ancora da salotto si va bene un salotto magari un po dedicato ma comunque un salotto ebbene beh è chiaro che qualcosa sta sfuggendo di mano intanto sono dei push pull e poi sono retroazionati e poi sono in classe b e poi suonano come ahimè ci si può aspettare da crocchi del genere il punto che vorrei cominciasse a essere evidente è evitate di comprare qualsiasi schifezza solo perché c'ha dei tubi grossi così è un sacco di watt perché poi suona male ce l'ho sotto in laboratorio un 211 di un cliente piuttosto sul disperatino che suona peggio di un miraceti 300b modificato non ho fatto la prova col miraceti 300b normale per decenza però si è un 211 ma non vuol dire niente se la valvola è fantastica ma la usate male siamo punto e da capo non ne usciamo non serve assolutamente a niente allora è meglio un 300b fatto bene piuttosto che un 211 un 845 con le pezze ma non siamo ancora contenti archiviamo la gu 81 fin troppo facile da da commentare e prendiamo un altro grande classico della libidine audiofila la 833 questo è un triodo ebbene anche questo è molto carino poi è più lineare di una gu 81 sì lo pagate un po di più perché quella laia russa ve la tirano praticamente dietro questo qui invece è già un po più ricercato vi chiedono qualche soldino in più ma qui siamo veramente ad alti livelli qui siamo a 4 kilowatt anodica dico 4000 volt di anodica per 150 200 watt di dissipazione da quelle parti a seconda del punto di lavoro poi diamo un'occhiata e come al solito buttiamo sempre un occhio al nostro filamento perché su queste anole è veramente qualcosa di stratosferico e di nuovo abbiamo un 10 volt di filamento per 10 ampere non è male non è male soprattutto perché a filamento freddo se ne assorbe 20 comunque e quindi anche qui bisogna farlo partire pian pianino per evitare di fare i fuochi d'artificio questa valvola è un po più semplice a utilizzare dell'altra perché effettivamente ha un po più di guadagno guadagna attorno ai 35 alle 35 volte quindi ha un fattore di amplificazione in tensione di 35 volte la 233 viene presa in considerazione anche come modulatore per un amplificatore di trasmissione quindi un amplificatore di potenza in gamma audio attenzione purtroppo anche questa valvola non è una valvola fatta per lavorare in classe a quindi è vero che ha una capacità di dissipazione dell'anodo molto alta ed è una valvola che lavora con l'anodo incandescente ok quindi vedrete la placca rossa quando questa funziona proprio lo spot dove sbatacchiano tutti gli elettroni e la temperatura va alle stelle tuttavia come al solito se la usate in questa configurazione cioè in classe a in un single ended o cose del genere li state facendo veramente un gran male perché perché queste sono valvole che erano fatte per lavorare in classe b o in classe c quindi in regime non continuo e con una corrente polarizzazione continua bassissima o nulla se guardiamo infatti il foglio dove ci sono gli usi raccomandati vediamo che l'amplificazione audio è sì contemplata ma rigorosamente in classe b quindi un push pull in classe b un single ended in classe a con questa valvola avrà senz'altro una funzione decorativa importante però non stiamo esattamente facendo la cosa giusta anche volendo deratare cioè volendo abbassare i limiti di dissipazione della valvola abbondantemente andremo poi incontro a un comportamento piuttosto non lineare quindi una distorsione intrinseca piuttosto alta e quindi quelli che raccontano che la usano senza feedback beh vorrei andare a vedere i circuiti sicuramente in push pull in classe b il feedback ce lo dovete mettere perché sennò avete una distorsione quantomeno di incrocio zero abbastanza bestiale vediamo che cosa ci raccomanda manuale allora vediamo che intanto abbiamo delle siccome questi sono dei professionisti non usano le valvole per giocare hanno doppie specifiche cioè per uso continuo e per uso intermittente per uso continuo quindi per uso continuo stiamo dicendo 24 ore al giorno sette giorni su sette è il trasmettitore dell'emittente am che va notte giorno e si ferma solo quando si rompe questo è l'uso continuo allora come modulatore quindi come amplificatore audio per uso continuo abbiamo 3 kilowatt d'alimentazione così tanto per insaporire abbiamo una corrente di placca di 500 milliampere quindi 150 watt di dissipazione quindi stiamo tranquilli per uso continuo abbiamo una dissipazione di placca di 300 watt poi abbiamo un'altra biforcazione abbiamo un'altra opzione nelle nostre caratteristiche d'uso che è il tipo di raffreddamento perché capite che per buttare fuori queste potenze non è che si possa tanto scherzare e quindi abbiamo la scelta fra raffreddamento per convezione oppure raffreddamento forzato ad aria quindi vedetevi la vostra valvola montata in un tubo con sotto un ventolone centrifugo che gli butta dentro un vento dell'apocalisse per portarvi a più calore possibile allora stiamo tranquilli perché dobbiamo usare in salotto e quindi usiamo la raffreddamento per convezione non con non il raffreddamento forzato che sarebbe un po' rumorosetto da gestire in casa e in questo caso direi che siamo più fortunati che nel caso precedente della G81 e ci bastano 20 watt di potenza per pilotarla quindi di nuovo un 845 tirata per il collo oppure un push pull di 845 un po' più tranquillino giusto per pilotare il nostro tubo il problema ulteriore che a queste correnti a queste tensioni il trasformatore d'uscita raccomandato ha un carico di circa 10 kg ora un trasformatore da 10 kg fatto come si deve già viene grosso per un 845 per una 211 per questa valvola non oso pensare alle dimensioni reali di questo trasformatore perché possa gestire effettivamente anche una buona banda di frequenza alla massima potenza cioè possa effettivamente gestire la massima potenza alle frequenze più basse perché il problema insomma è lì uno dei problemi dei trasformatori insomma non c'è male di cose ne fa il maximum signal power output approximate quindi il massimo la massima potenza in uscita di una configurazione del genere quindi 2833 in push pull in classe b tenetevi perché parliamo di 1650 watt vi bastano per il vostro salotto chiaramente queste sono potenze che non mi risulta vengano mai applicate ad altoparlanti non siano mai state applicate ad altoparlanti ma per pilotare un trasmettitore a radiofrequenza di alta potenza e in quel caso parliamo di trasmettitori magari da decine di kilowatt o centinaia di kilowatt beh il fatto di avere un modulatore da 1600 watt ci sta e i trasformatori d'accoppiamento erano effettivamente montati su un bancale perché erano veramente roba grossa però ecco questo è l'uso di questa valvola ripeto tutto quello che viene mostrato nel manuale è classe b e classe c usare questi triodi in classe a si è molto carino nel senso che sono belli da vedere sono grossi c'è una placca di grafite grossa così tutto bene però dobbiamo proprio tirarli per il collo per farli per farli funzionare il problema ripeto è che per pilotarli è già un casino e io vedo degli amplificatori a volte piuttosto piccoli che li fanno andare e spulciando poi si trova che questi amplificatori non sono a valvole o meglio non sono solo a valvole ma per far viaggiare questo genere di tubi utilizzano degli amplificatori a transistor cioè mettono un bel mosfet ad alta tensione che sia in grado di esprimere la potenza necessaria per muovere la griglia di queste valvole griglia che rischia di andare anche tranquillamente in positivo io adesso non ho guardato tutte le caratteristiche ma sì ecco le caratteristiche i grafici delle caratteristiche che vedo qui sono abbondantemente con griglia positiva quindi con un assorbimento da parte della griglia della finale importante se volete il mio parere sull'uso di queste valvole per avere alte potenze vi confesso che sono quantomeno molto perplesso mi sembra di essere nuovamente nel caso che avevamo visto per il per gli amplificatori otl cioè il voler usare un dispositivo totalmente inadatto a fare un determinato lavoro proprio per fare quel lavoro per una questione di principio non so se per una questione di principio in realtà no sappiamo che gli otl sono nati per una questione puramente commerciale bisognava fare degli amplificatori a valvole meno costosi la cosa prima la prima cosa che si toglie per abbassare il costo di un amplificatore a valvole è il costo del trasformatore d'uscita e in quel caso lì pronti via andato trasformatore d'uscita rivederci poi qualcuno poi chiaramente per vendere gli amplificatori senza trasformatore d'uscita si è scatenato il marketing e tutte le pubblicità se tu voi andate a vedere tutte le pubblicità degli amplificatori dei primi amplificatori a transistor il 75% vi dicevano ecco siamo abbiamo fatto l'amplificatore senza trasformatore d'uscita perché il trasformatore d'uscita è quello che fa suonare male l'amplificatore a valvole cosa che non è assolutamente vera è proprio assolutamente dimostrato il contrario ma il marketing tanto può cioè riesce a far passare per vero anche ciò che è platealmente falso qual è l'unico problema è il problema che per fare un trasformatore d'uscita che suona è complicato e costa caro punto se voi prendete dei trasformatori d'uscita che sono dei pezzi di latta o sono fatti coi piedi e suonano male sì ma qualsiasi cosa fatta che i piedi suona male non sono i trasformatori d'uscita quindi perché ci meravigliamo insomma vabbè come al solito ho divagato archiviata la 833 veniamo alla t1610 la prendo in considerazione perché mi è stata nominata in realtà non appartiene alla schiatta di queste anti antiche non è vero si usano ancora in certi casi di queste vecchie valvole o comunque tradizionali valvole di trasmissione è una valvola creata ex novo da kr alcuni anni ormai decenni fa ed è veramente un mostro come dicevo è un bottiglione di queste dimensioni alta così è veramente imponente abbastanza impressionante le caratteristiche sono notevoli e sono particolari perché prima di tutto è una valvola che lavora a tensione relativamente bassa è perché per un uso in classe a1 il manuale raccomanda 400 volt di anodica le sulle altre che abbiamo visto erano 4000 se vi ricordate qui invece 400 volt di anodica 160 milliampere di corrente di polarizzazione meno 83 volte di griglia e una resistenza e una resistenza interna di 370 ohm quindi questi qui di kr sulla carta quantomeno hanno creato una valvola che è estremamente comoda da utilizzare e capace di fornire delle potenze evidentemente piuttosto alte se non vado errato amplificatori pr che utilizzano queste valvole sono dichiarati dai 35 50 forse anche 60 watt in single ended e poi ci sono dei singoli paralleli quindi doppia potenza addirittura un push pull a 140 watt roba pesante con una nodica molto maneggevole 400 volt sono pochi sì ok sono 160 milliampere ci siamo però tutto sommato non è malaccio è l'alimentazione di una 300b è la dissipazione di placca è 150 watt in questa situazione quindi 400 volt 160 milliampere abbiamo meno di 80 watt se i conti non li sto sbagliando quindi tutto sommato una polarizzazione abbastanza conservativa che non dovrebbe uccidere la valvola in realtà bisogna notare una cosa se guardiamo bene come è fatta la valvola all'interno vediamo che la struttura è evidentemente doppia questa 16 10 in realtà sono due valvole nello stesso bulbo messe in parallelo una sopra e una sotto attaccate una sull'altra con due strutture identiche collegate insieme non è una brutta idea tutto sommato una cosa del genere certo se vogliamo fare le pulci ma intendiamoci proprio solo di pulci si tratta stiamo parlando di un single ended parallelo quando usiamo una di queste vato e non di un single ended puro però vabbè in realtà potremmo paragonarlo a un antico trio di biplacca come una 2 a 3 biplacca o cose del genere no sono due strutture nello stesso vetro sì qualitativamente la singola struttura unica da risultati migliori normalmente perché la simmetria delle due strutture è molto difficile da ottenere quindi un po di degrado c'è però insomma stiamo parlando del sesso degli angeli già che stiamo leggendo i numeri il filamento è un 5 volt a 3,8 ampere quindi 5 per 4 20 watt assolutamente onesto lasciatemi dire rispetto alle altre bestie alla fine un 845 sono 32 watt e mezzo quindi questa è anche meno per una potenza paragonabile o superiore quasi sicuramente superiore direi vista la dissipazione e visti i dati in gioco e ha una tensione alimentazione molto bassa questa sembra la valvola perfetta ha un guadagno di 3.7 quindi è simile a un 845 vediamo un pochino le curve che sembrano abbastanza belle sembrano piuttosto lineari e l'unica cosa che mi permetto di osservare guardando questi dati è forse un'eccessiva generosità nel dichiarare 50 watt in single ended senza controreazione per far funzionare bene questa valvola con una linea di carico ottimale non troppo stressante e con una distorsione piuttosto bassa forse più ragionevolmente dovremmo parlare di 25 30 watt ecco poi potrei sbagliarmi non voglio non voglio contraddire nessuno non voglio contestare nessuno anche perché io questa valvola vi confesso non l'ho mai avuta per le mani e non no non è vero l'ho anche sentita però l'ho sentita in amplificatori che a me non piacevano per niente perché perché utilizzavano uno stadio driver a mosfet per pilotarla questa valvola lavorando con tensioni così basse e correnti piuttosto alte mi dà l'idea di avere una griglia molto pesante da spostare e quindi per riuscire a pilotarla di nuovo ci vuole uno stadio driver dell'accidente per fare gli amplificatori piccoli e maneggevoli si ricorre almeno negli esemplari che ho sentito io si ricorreva a un mosfet risultato questi amplificatori che ho sentito non avevano nulla della grazia e della naturalezza di un valvolare ecco erano dei bestioni piuttosto duri piuttosto grintosi ma per poco o nulla raffinati per cui non so giudicare la valvola perché l'ho sentita in un circuito a parer mio del tutto inadatto nuovamente non so se questa valvola si presti ad interpretazioni particolarmente raffinate perché a meno di non andare a mettere delle valvole molto belle come pilota come pilota si rischia di finire a pilotarla in maniera inadatta insufficiente però andare a pilotare con un tungsten otoriato molto raffinato una valvola di questa potenza di questa stazza proprio non so ecco sì probabilmente ci tiro fuori qualche decina di watt è ok però mi perdo tutto il buono che ho fatto con gli altri stadi di amplificazione per forza preferirei avere 10 watt 15 watt molto buoni da un 845 dico per dire piuttosto che usare questo 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 circuito per pilotare un bestione del genere a meno che non voglia tirare fuori watt però purtroppo abbiamo già visto che questa corsa ai watt poi porta a un degrado della qualità sì voglio dire possiamo anche metterci dei transistorazzi così e tiriamo fuori watt no però dove andiamo a finire andiamo a finire a livelli qualitativi inferiori ora se devo fare un bellissimo driver per pilotare una valvola che poi è meno raffinata io lascio chiaramente libera scelta ognuno diciamo solo che io preferirei tenermi 15 watt che sono già abbondanti e ci piloto praticamente qualunque cosa di alta qualità senza andare a scomodare questi bottiglioni preferisco un push pull di 845 a un single ended di valvolone di questo tipo che in tutta onestà non credo siano altrettanto adatte a suonare bene ecco questa è l'idea poi ripeto senza nulla voler togliere all'opera dell'ingegno in questo caso che comunque ha tirato fuori una valvola particolare semplicemente quando penso a questi amplificatori con valvolone enormi spettacolarissimi da vedere intendiamoci spettacolarissimi però io personalmente penso a soluzioni differenti ecco tutto qui poi abbiamo preso in considerazione questi tre casi ma sono solamente tre casi presi dal mazzo perché in giro ho visto amplificatori fatti con ogni tipo di valvolone con le 100 th con le 250 th sono tutti questi questi tubi di trasmissione ad alta potenza che sprigionano 150 200 watt in single ended e nuovamente vi metto le mani nei capelli perché sono valvole del tutto inadatte a un uso audio sono valvole poco lineari sono valvole di trasmissione come quelle che avevamo visto prima cioè adatta a funzionare in classe b in classe c usate invece in single ended in classe a quindi con aspettative di vita bassissime con uno stress termico sulla valvola folle che non ha nessun senso nella quasi totalità dei casi nuovamente il costo per riuscire a vedersi in salotto questi bulbi grossi così con dentro la cosa che si illumina era di usare stadi pilota transistor ora ripeto ognuno è libero di fare quello che vuole ma cominciamo a distinguere le cose fatte bene che suonano dal resto del mondo le cose fatte bene che suonano sono delle altre quelle sono cose fatte per esibizionismo o per una prova d'autore quante volte ho avuto io stesso la tentazione di dire cappero mi prendo un paio di queste valvolone e ci faccio un amplificatore solo per il gusto di fare la sparata grossa perché dai la g81 magari no però la 833 è proprio da soddisfazione un cuscinotto grosso così con questi spuntoni di elettro di fantastici è lì che dice usami usami diciamocelo chiaramente figuriamoci la possibilità di comprarsene uno senza neanche lo sbattimento di doverselo fare metterselo in salotta e far crepare di invidia sull'istante tutti gli amici che arrivano per vedere l'impianto non per ascoltare musica per vedere l'impianto e li ammazzi dai quando dai corrente a quei filamenti pomp con le placche che diventano rosse per la corrente dai cappero cioè voglio dire un po di destabilizzazione uno la prova però battuta parte parlando seriamente la roba che suona è ancora diversa il fatto di dover ricorrere a stadi pilota transistor di dover infilare quantità cospicue di retrazione e di dover scantonare su una serie di aspetti per evitare di avere un amplificatore grosso metà alla stanza beh secondo me non vale la pena compratevele usatele come ha fatto questo signore a modi abajur consumano un po è perché insomma però alla fine scaldano anche la stanza d'inverno ci stanno va bene dai un po ridendo e scherzando un po parlando seriamente siamo arrivati anche alla fine di questo video vi ringrazio come al solito per la pazienza se vi è piaciuto magari considerate l'ipotesi di iscrivervi al canale mettere un like condividere commentare sotto perché io in più o meno in qualche modo di solito riesco anche abbastanza quasi tutte le volte a rispondere o comunque a trarre magari spunto come ho fatto per un nuovo video quindi grazie per l'attenzione grazie per essere arrivati fino qui e noi ci vediamo al prossimo video